Io non credo che oggi non si possa più dire niente, anche perché normalmente quelli che si lamentano di non poter più dire niente l'hanno appena detto e di solito l'hanno detto su prime pagine di quotidiani o in prima serata in televisione, quindi casomai quello che è cambiato rispetto a una volta è che persone che appartengono a minoranze o non minoranze marginalizzate della nostra società oggi iniziano a avere una voce, anzi iniziano ad avere spazi per far sentire la loro voce, perché non è che prima fossero afoni, semplicemente non c'era spazio pubblico per loro e quella voce può essere magari di protesta rispetto a comportamenti che una parte della società invece dava per scontati da un punto di vista della comunicazione. Questo non vuol dire che non ci possano essere eccessi di pruderì linguistica, di pudore linguistico. Penso per esempio all'idea di chiamare non vedenti i ciechi. I ciechi vogliono essere chiamati ciechi, non vogliono essere chiamati non qualcosa. Il problema è che spesso quando si va nella direzione del politicamente corretto non si ascoltano i diretti interessati, ma si parte da un punto di vista che è sempre quello prevalente, diciamo, no, quello normale e quindi ci si rischia di perdere le sfumature. Quindi come si fa? Secondo me la prima manovra da fare è quella di mettersi in ascolto di chi fino ad oggi non era ascoltato. Il linguaggio è sempre la cartina di tornasole della società e della cultura che lo genera e quindi è inevitabile che ci sia non solo un androcentrismo linguistico, per esempio la forma base delle parole il maschile. Questo non è un dato intralinguistico, è un dato extralinguistico, nel senso che deriva appunto da condizionamenti sociali e culturali, dal ruolo che l'uomo, nel senso di maschio, ha avuto nel corso della nostra storia e quindi la lingua non poteva avere nessun'altra forma. Poi ci sono degli elementi molto più espliciti di sessismo anche a livello linguistico. Forse il più semplice da vedere è intanto il fatto che la prima offesa nei confronti di una donna sia sempre, diciamo così, nel campo semantico del meretricio, no? E quindi si dà un giudizio sul comportamento sessuale, sul presunto comportamento sessuale della donna, che si dovrebbe vincere anche dal vestiario, no? E tante altre cose. Ma la cosa diventa particolarmente interessante se si pensa invece come si insultano i maschi, che sono o figli di, della suddetta, o tua sorella, che batte pure lei, oppure cornuto, che è di nuovo un'offesa indiretta perché si passa dal presunto comportamento appunto della compagna, della moglie, eccetera. Sembrano qui squilie, ma in realtà questo dice molto degli squilibri che ci sono fra i generi nella nostra società. Non tanto solo fra maschi e femmine, quanto fra maschi, soprattutto eterosessuali cisgender, e quelli che Chiara Botti ci chiama i secondi sessi, in cui rientrano non solo le donne, ma anche tutti gli altri generi non conformi, diciamo, ma che deviano dal maschio eterocis. Allora, è un po' difficile rendere le persone consapevoli del potere delle loro parole, per due motivi. Perché raramente si fanno riflessioni metacognitive sul linguaggio a scuola, del tipo perché parliamo, da dove vengono le parole, dove vanno, cosa succede alle nostre parole, perché cambiano i significati, eccetera, eccetera. E poi perché tendiamo a pensare che si tratti solo di macrosistemi, la lingua, e quindi si pensa in grande e non si pensa al proprio ruolo all'interno del cambiamento sociale, culturale e linguistico. Quindi bisogna un po' riprendere queste basi, l'ideale sarebbe farlo a scuola, chiaramente, e farsi delle domande su qual è il peso delle nostre parole. Ecco, e forse sarebbe bene sapere che uno degli effetti principali della parola è quello di rendere visibile ciò che magari non vediamo finché non lo nominiamo. Non è che le cose non esistano se non le nominiamo, ma quando le nominiamo diventano raccontabili e quindi si vedono meglio. Allora, per esempio, l'emersione del femminile, che siano nomi in agenti, cioè nomi professionali al femminile, o un modo più attento anche di chiamare le cose, non lo so, invece di prostituzione, sex work, invece di utero in affitto, gestazione per altri, no? E così via, contribuisce a dare una forma diversa al nostro pensiero. Quando noi diciamo ministra, assessora, questora, non stiamo facendo solo un'operazione, peraltro, tecnicamente correttissima, perché l'italiano prevede i femminili professionali, ma contribuiamo a normalizzare nella nostra testa la presenza femminile in quei ruoli, magari apicali, in cui prima le donne non c'erano. E questo è qualcosa che si può fare a livello individuale, cioè io prima di andare in giro a dire alle persone, no, devi parlare così, parto da me stessa. Quindi io uso i femminili professionali in tutte le situazioni. Se la persona dall'altra parte mi dice, guarda, io preferisco essere chiamata avvocato, faccio un passo indietro, perché non è che dobbiamo fare il braccio di ferro. La filosofia è che i cambiamenti sociali, culturali e linguistici sono lentissimi e quindi la goccia scava la pietra, bisogna insistere. Allora, io non penso che non si stiano mettendo in crisi certi modelli cognitivi, anche nella storia, nella letteratura, nella filosofia. Cioè, mi sembra che i tempi siano tali che proprio si parla di queste cose, no? Per esempio si riconosce per la prima volta il predominio maschile a livello appunto storico, filosofico, letterario, perfino linguistico, no? Per cui anche di questo si parla. Quindi non è che non si stia facendo niente. Chiaramente spesso la scuola è un luogo un po' inerziale, ma se non altro perché chi insegna a scuola si è formato 10, 20, 30 anni prima e quindi è ovvio che riproduce anche involontariamente i bias, i pregiudizi che strutturavano il suo pensiero quando quella persona era a scuola, no? Uno tende a pensare che quelle siano le cose importanti da insegnare. Come si fanno a cambiare i paradigmi cognitivi? Di nuovo è una cosa molto lenta. Certo, uno dei percorsi necessari è quello di rivedere i libri di testo e di dare più spazio alle donne, non solo al femminismo come movimento, ai femminismi anzi come movimenti storici, ma proprio rivalutare la presenza femminile perché non è che non ci fossero grandi donne, è che normalmente le grandi donne sono o sante o guerriere, vergini, no? Penso a Giovanna d'Arco o parenti di qualche grande uomo, no? Quindi la sorella di, la nonna di, eccetera, eccetera. Invece c'è tutta una storia femminile che si sta riscoprendo, ma ahimè non è neanche facile perché la storia la fanno i vincitori e quindi non è detto che ci siano documenti su tutto questo. Però ecco, la scuola è importante che si ponga delle domande, per quello che vedo un po' se le sta ponendo, magari ancora non abbastanza, ma anche qui bisogna avere molta pazienza. Grazie a tutti.